noi ci abbiamo a Fritz! noi ci abbiamo a Fritz! non si riesce a rivivare l'aria sull'attaccante! Frank gioca sul portiere! eravamo nella squadra era un limite normale in semifinale con 3 per vinto gioca sul portiere Frank! 5 minuti alla fine, hanno fatto 4 gol allora 1 o 8 gol di Paolo, il portiere da una parte tra le altre e la terza e poi il palo è messo da... da casa Luardo e qui era a fuori con gli altri due volte eravamo un'altra parte vabbè certo!